Chiunque siate, qualunque sia la vostra provenienza, e ovunque siate diretti, al di là delle frontiere e delle culture, non importa la vostra età o il momento della vostra vita, in L'Oréal crediamo nel potere della bellezza per tutti, per Amanda hai il potere di proteggere chi ama, per Marie la possibilità di un nuovo inizio, per Caroline il potere di rendere magico il primo giorno di scuola, per Erin la fiducia in se stessa e in un futuro migliore, per Joana la possibilità di trasformare un semplice appuntamento in una promessa di felicità, per Pierre è la spinta in più per farcela, adesso, per Mia la bellezza può fare di questo giorno il più bello della sua vita, per Paola e lui bellezza significa avere ancora vent'anni, per Rajiv la bellezza può lasciarlo senza parole, perché la bellezza ha il potere di cambiare le nostre vite, e noi vogliamo offrirla a tutti.